La Pinacoteca Comunale di Città di Castello festeggia i suoi 110 anni con il tradizionale brindisi accompagnato dalla musica rinascimentale di Fabio Battistelli e Stefano Falleri e dall'applauso delle persone presenti alla cerimonia ufficiale. Un intervento di ricostruzione e prospettiva è stato quello dello storico dell'arte Giovanni Luca De Logu rappresentante della soprintendenza archeologica, beni culturali e paesaggio dell'Umbria ricostruendo anche la figura del fondatore e primo direttore Elia Volpi. A Elia Volpi si deve l'acquisto di questo palazzo principesco e l'allestimento della collezione della Pinacoteca in questi spazi quindi con un gusto molto specifico dell'epoca, una sorta di ambientazione neogotica che è poi la caratteristica principale di questo museo ed è la cosa che lo distingue rispetto ad altri musei umbri ha proprio questo gusto per la ricostruzione d'ambiente e soprattutto ha anche le caratteristiche di una sede che è effettivamente in un palazzo di una famiglia gentilizia. Patrizia non è come altre realtà dei musei comunali dell'Umbria è allestita pure nelle chiese demaniate e incorporate ai beni dello Stato quindi nelle chiese di San Francesco piuttosto che di San Domenico e di altre realtà umbre. Queste sono proprio le caratteristiche, proprio in estrema sintesi, di questa raccolta, di questa collezione per così come è stata allestita e su queste caratteristiche si deve lavorare per una piena valorizzazione. Tanti gli eventi in programma per il fine settimana in occasione del compleanno della Pinacoteca che si pone come obiettivo per il futuro la qualificazione delle figure che lavorano nell'orbita del museo nel senso della valorizzazione, della ricerca e della promozione. In questo fine settimana ci saranno tanti altri eventi come visite guidate sia il sabato mattina che la domenica pomeriggio e si troveranno anche dentro le sale della Pinacoteca momenti di musica per mettere insieme questo connubio vincente di arte e musica dal vivo. Il sabato pomeriggio lo vogliamo appunto vivere all'insegna di un ricordo di quello che sarà un ricordo da lasciare nei libri di storia che è appunto la grande foto come è stata fatta dieci anni fa per il centenario la faremo in piazza Gabriotti quindi è un appuntamento importante che abbiamo dato a tutta la collettività per poter essere insieme a tutti i cittadini per essere in un momento di storia della nostra città e domenica sera si finirà questa triade di giorni nel ricordo dell'opera importante e all'insegna appunto dell'amore che ha avuto Dino Marinelli per questo luogo speciale che comunque lo ricorderà in un cortometraggio quindi veramente siamo onorati di avere un patrimonio culturale così importante e abbiamo l'onere comunque di viverlo e di farlo vivere.